Franceschi Fiorini Punta l'avversario Vede Zaccaria 1-2 con Fiorini Fiorini il tiro La parata del portiere Flammini Scarica Trasso lungo La ricerca dell'attaccante In mezzo per Venale Il pallone non arriva per poco Battuto corto per Gerardi Gerardi Lugo A cercare Lana È solo Lana davanti al portiere Può girare Non ce la fa Lancio lungo a cercare Lana Ma è corto È riconquistato la torma arancia Venale Il tiro La parata del portiere della Lazio Che salva la squadra in calcio d'angolo Parte fuori E c'è il gol Di Yuri Zaccaria 1-0 Per il torma arancia A battere Savi Cioè Fiorini solo Lo serve Fiorini A cercare Zaccaria Zaccaria Il tiro E il gol Zaccaria Secondo palo Sesso Gerardi a battere il calcio d'angolo Battuto fuori Per Mellaro Che tirerà Mellaro Grande parata del portiere Vola Romano Buona Occhio Occhio 1-1 Battuto corto l'angolo La fine Mellaro Ancora fuori Si gira De Rossi Cercava di salutare il terzo uomo Non ci riesce Quindi Fiorini Fiorini Pallone e mezzo per Flamini Parata del portiere Cercava Fiorini Intercettata da Gerardi Consalvi Lana Triangolo con Gerardi Ancora Gerardi Per Consalvi Consalvi La parata La parata La riconquista un'altra volta Zagaria 3 contro 2 Vede Per un attimo Flamini Ma sbaglia il passaggio La conquista la Lazio De Rossi De Rossi Ho tentato la conclusione Vede lana Il tocco di lana La parata del portiere Porta palla Ancora Mellaro Vedete Ipen Ipen Si insinua Salta il primo uomo Mellaro Da fuori La deviazione E c'è il gol E c'è il gol della Lazio Che accorcia il risultato Pinta dal difensore Gli prende Palla di Rossi Alla fine L'arbitri Dice che basta così Finisce il risultato Sul 2-1 Per il Tor Marancia L'arbitri